Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Oggi vi porto un Pro vs Pro Perché lunedì non è uscita l'analisi gameplay E ci tengo a portare sempre comunque un gameplay di livello sul canale a settimana Analisi che torneranno la settimana prossima In particolare in seguito al torneo che sarà questo fine settimana Nel quale magari andremo a rubacchiare con gli occhi News sul nuovo meta e su nuovi giocatori che verranno utilizzati Insomma in maniera importante per competere Ma ci tengo a portarvi questa partita perché sebbene sia stata giocata sulla vecchia patch Ci sono un sacco di dinamiche che secondo me possono essere riprodotte anche ora Perché insomma soprattutto a livello alto e quando si gioca contro avversario del proprio livello FIFA 21 credo diventerà in maniera inesorabile simile a FIFA 20 E per cui si andrà sempre a cercare di costruire quell'1v1 in area Contro il difensore in isolamento per potersi liberare e calciare Quindi credo che questa partita in tal senso ci dica delle cose interessanti Passiamo quindi subito sulla schermata di gioco dove ci attendiamo La classica lavagna tecnico-tattica Ed ecco qua, proprio prima azione Vedete come gestisco palla con Renato Sanchez Palla poi per Viera ancora per Renato Guardate come aspetto il movimento di Ronaldo Faccio questa finta di tiro di prima E qui con un drag back tiro a giro che purtroppo non trova la rete E vi dico questa è proprio la situazione di FIFA 20 Perché tornando indietro vedete come io qui ho creato questa situazione di 1v1 E adesso per me le possibilità erano due Possibilità numero due Avrei potuto fare uno scoop turn E quindi fare più o meno questo movimento E portare palla sul sinistro di Ronaldo Oppure effettivamente potevo sfruttare il tiro a giro Attraverso il drag back che mi permette di uscire così E incrociare qui sul palo vicino Certo il tiro a giro questa non è la cosa più efficace di questo mondo Però diciamo che io ho optato per questa scelta Visto che comunque lui con Varane mi copriva più o meno questa porzione di campo Sapevo che non si aspettava il drag back Ma si aspettava piuttosto la mia aggressione a quella porzione di campo E quindi sono andato per questa giocata Però già questa è una prima dinamica che potremmo ritrovarci anche post patch Ossia andare a cercare quest'1v1 dopo una serie di passaggi Per andare poi a fare solamente l'ultimo movimento La conclusione con l'attaccante Quindi ocio a queste situazioni così Poi dal calcio d'angolo alla mia solita maniera Cerco la giocata fuori dall'aria Con Mendy poi ancora una volta palla per Varane Renato guardate ancora qua con pazienza Ancora una volta per cercare l'isolamento Qua però vengo chiuso E avevo tentato il doppio passo Che adesso invece dovremmo dimenticarci Però guardate come il motivetto sia bene o male Sempre quello qui ottima la palla verso Neymar Lo scarico per Bappé E ancora la palla in isolamento per Ronaldo Qua vi dico che ho sbagliato E ho sbagliato anche di grosso Perché qua sono stato bravissimo A costruire la classica azione a scaletta Perché io già so ancora prima di continuare a muovermi Che adesso io passerò Step 1 palla in Bappé Step 2 Quando controllerò palla con Bappé Ronaldo avrà fatto questo movimento A venire a prendere palla Perché è canonico Quando voi vi muovete Seguendo questo pattern I giocatori fanno sempre le stesse cose Infatti è proprio quello che accade Quindi io do palla a Bappé Do palla a Ronaldo Qui faccio questa finta tiro di prima In realtà io qui avrei dovuto Fare la finta di tiro Ma esattamente in quest'altra direzione Portare palla sul destro ragazzi Qui non vi dico 99 su 100 Ma 90 su 100 Nonostante qui c'è la Varane Che avrebbe potuto coprire questa zona O comunque autobloccare Questo era gol Perché avrei potuto anche girarmi E passare poi eventualmente Pandla a Rashford Ok? E calciare ad esempio Però io sono abbastanza sicuro Che qualora mi fossi girato In quest'altra porzione Avrei trovato un esito maggiore Di questa giocata Perché ovviamente andando invece in questa zona qua Sono stato veramente sciocco Perché qui abbiamo Giocatore 1 Che sta coprendo Giocatore 2 Che sta coprendo Più il portiere Che sta già coprendo Sul palo vicino Quindi qua era proprio un passaggio A vuoto Non avrei mai potuto sfondare da questo lato Quindi qua Me la sono giocata male A mente fredda Avrei potuto sicuramente fare Fare di meglio Difatti poi qua Perdo palla E l'azione insomma Si perde un po' nel nulla Vedete come nei primi 40 minuti Ho praticamente giocato solo io Guardate qua come ancora Cerco sempre questo motivo Guardate quindi Spam di doppi passi anche qui Praticamente pari a nulla Faccio sì qua Questo fake doppio passo Che si può ancora continuare a fare E costruendo l'isolamento Con l'ultima skill Vado poi A seccare Il portiere Con questa conclusione di Mbappé Qua al solito ragazzi Azione a scaletta Che vi ho spiegato 9000 volte Qua con Rashford Torno indietro Tornando indietro Io il mio primo step È dare palla a Ronaldo E senza neanche costruirmi Chissà quali Insomma giocate Io so Che una volta che la palla Va a Ronaldo Mbappé è pronto A ricevere palla Su questa linea Qui tornando indietro Guardate proprio Mbappé come io Appena do palla a Ronaldo E anche prima Già inizia a tornare indietro Guardate Guardate È arrivato qui Io gli do palla Mi giro Faccio questo fake Doppio passo perché Qualora l'avessi affondato Sarei arrivato Praticamente in questa porzione Di campo E quindi Baran Probabilmente M'avrebbe contrastato Quindi in realtà Mi fermo Con la finta di tiro Porto Palla Con il tacco tacco A creare separazione Vedete Tra il mio Mbappé E il suo Walker Perché io già sapevo Avevo già in testa Di fare La crocchetta Quindi L1 Più freccia Verso destra Per allargarmi E calciare Qui quindi dovevo creare Separazione Perché se vado a fare La crocchetta Troppo vicino Me l'avrebbe tolta Quindi vedete Io come qua Aspetto che poi Mi venga più o meno A contatto So che qui lo supero 100% Infatti lo supero Lui va a vuoto E gli metto dentro La rete dell'1 a 0 Quindi qua Veramente costruita bene Quest'azione Ma vi ripeto Già avevo tutto in testa Quando ho fatto questa giocata Quindi veramente Bella bella roba Qui Palla per Per Gullit Finalmente lui si fa vedere Davanti qua Rigore Devo dire che insomma Qua ho veramente poco Da recriminare Perché Guardate come ho coperto bene Credo di aver fatto Veramente tutto Con i tempi giusti Perché qua con Walker Io avevo provato a coprire Il passaggio Con Varane Approfitto del fatto Che lui con Bappé Si trovi Spalle alla porta Quindi non è pericoloso E decido di andare A aggredirlo Una volta che passa Gullit Vado con Walker Tempo reggio Tontano Perché avevo paura Di essere saltato Da un doppio passo Lui fa un drag Back Si gira Vuole calciare Io vi giuro Stavo solamente prendendo LL2 Lui calcia Mi prende E insomma Walker purtroppo Commette fallo da rigore Quindi al 53 Lui ha una grossissima occasione Per rientrare in partita Gullit va sul dischetto Ma Glielo intuisco Perché avevo visto Il giorno prima Che con Gullit Li tirava tutti a destra Mi avevo spiato Un po' di partite Calcio d'angolo Vedete come lui cerca Di costruire anche lui L'azione manovrata E ragionata Guardate come Sto incollato Guardate lo switch Con Renato Sanchez A tornare indietro Per non prendere i difensori Poi vado effettivamente A prendere Walker Per comprire Lì con Con Gullit Poi qua Guardate lì Nel cerchio di centrocampo Premo l'L1 Per far scattare Mbappé Lui mi arriva vicino Suola Più Borrol E lo mando Borrol più Skuptun E lo mando totalmente Al bar Ma questo è un gol Che inizia da qui È un gol Che inizia assolutamente Da qui Da questo recupero Palla Da questa palla Data Con i piedi Con i giusti tempi A Renato Sanchez Qui io vedo Che lui fa questa uscita Troppo alta Si è creata Una prateria Qua al centro La prima cosa Che io faccio È schiacciare L1 Perché si sa Che schiacciando L1 Fai scattare il giocatore Verso il quale Sei direzionato Quindi Mbappé Inizia a correre Come uno sesso Si lancia Verso la porta Avversaria Eccolo qua E poi qua Anche È una gran giocata Non banale Perché qui Io so Che lui Vuole venire a stringere Per evitare Di farmi fare Insomma La giocata Quindi cosa faccio Suola Per allargarmi Una volta Che mi sono allargato Visto che lui Sta andando a fare Il contrasto Per mandarlo In controtempo Faccio lo scoop turn Ed è proprio Quello che succede Gli spezzo l'anca Come dicono In gergo cestistico Varane va a vuoto E incrocio Con il destro Per la rete del 2 a 0 Quindi anche questo Veramente Un bel goal Devo dire la verità Costruito bene Dal sessantesimo Però in poi Sale in cattedra Lui Visto che Comunque vi ripeto Parliamo di un Fuoriclasse mondiale Qui Onestamente Non ho tanto Da recriminare Perché insomma Copro bene Con Varane Sbaglio lo switch Avrei dovuto switchare Subito su Walker Invece switch Prima su Renato Creo questa separazione Che non deve esserci Lui riesce A dare subito Palla a Varane Io seleziono Con un pelo di ritardo E qua ho fatto Il contrasto Ma Non ha messo il piede Quindi Purtroppo Subisco la rete Del 2 a 1 Passano 5 minuti Lui È bravo Ancora una volta A costruire questa azione Con questi scambi rapidi O solito Temporeggiata Con Varane E qua Ancora una volta Ho probabilmente Sbagliato Con Walker Vedete In questo momento Qui io sbaglio Con Walker Perché Mi allontano Invece di allontanarmi Avrei dovuto Già essere Più o meno qua Quindi stretto Non avrei dovuto Dargli possibilità Di muoversi Come ha fatto Con questo doppio passo Lui qua Praticamente Io dovevo essere già qui Mi taglia fuori E quindi Una volta che mi ha tagliato fuori Mette dentro La rete del 2 a 2 Col sinistro di Ronaldo Però questa magari È una dinamica Che non vedremo più Con il doppio passo Qua È un'altra cosa Che in realtà Non dovremmo vedere più Perché questo gol Arriva Con la finta Di tiro cancellata Guardate come Mi ha messo il piede Varane Io non ho premuto niente Potete vedere Tranquillamente Nella barra in basso a destra Che non si carica L'indicatore del contrasto Quello è un intervento Che Varane Fa in automatico Io non volevo farlo Stavo temporeggiando E lui mi mette dentro La rete del 3 a 2 Quindi Rimonta completata Da parte sua Poi arriva Quello che non deve succedere Ossia All'ottantaseiesimo La rete del 4 a 2 Che praticamente Rovina un po' tutto Qui ancora una volta Sbaglio Con Varane Perché sono uscito Troppo troppo alto Poi temporeggio bene Con Vierà Ragazzi Ditemi voi Vierà che cosa ha fatto Qui probabilmente Stava Stava prendendo Un Un caffettino E Insomma È andato totalmente a vuoto Non ha messo Non ha messo il piede E Insomma La partita Termina Termina così Sul Sul 4 a 2 Peccato 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 Vi ho voluto portare L'analisi Più nel dettaglio Del primo game Che abbiamo giocato Perché vi ripeto Secondo me È quello più ricco di spunti Anche in ottica Post patch Peccato Perché secondo me L'ho giocata Veramente ad alto livello Io ho concesso Vi giuro Solo queste 4 occasioni Che avete visto Più quella del rigore Veramente Una partita Giocata ad altissimo livello Poi ci sta Giocatori forti Di livello mondiale Ti castigano Appena glielasci In mezza Quindi ci sta Contento di come ho giocato Vediamo come Affronteremo insieme Questa nuova patch Vi ripeto Vi aspetto Soprattutto fine settimana Per guardare insieme Il torneo della EA Ve lo ribadisco Perché da lì Secondo me Trarremo veramente Tanti tanti spunti Per proseguire Nuda ragazzi Quindi per oggi Questo video è tutto Vi esorto a lasciare Come al solito Un like e un commento Iscrivetevi al canale Che stiamo andando una bomba E mi fa strapiacere Trovate in descrizione Tutte le info Sulle live Giornali sulla piattaforma Viola E nuda ragazzi A me non resta altro Che salutarvi Ciao 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 Grazie.